Allora, l'ultima volta c'eravano lasciati con il primo livello della... della cosa, della Grecia. Allora, siamo nel Colosseo. Vi ricordo qualcosina. Ricordo che c'erano dei leoni, qualcosa del genere. Porca! 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 Grazie. Gentilissimo. Ma come sempre... Quanto ce ne sono? Eh, certo. Spara! Spara! Grazie! 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 Zio prantante! Salta! 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 Grazie! Gintilissimo. Porca! No, no, no! No! Zio prete! Ricarichiamo. Ciò possiamo fare? Eh? L'importante è non farsi beccare dall'alligatore. Poi se ci prende il... Il tizio lì. Ah, è già qui? Salta! Dio! Dio! Balino! Dai, vai, vai! Dai, vai! Salta! Vuoi morire? Ah, grazie! Gentilissimo! Come sempre! Vi ammazzo anche quello, perché sai? Si può ammazzare? Certo! Certo si può ammazzare. Se sanguina può morire, no? Proviamo ad andare di qua. Certo. Come? Come? Eh? Oh! Fuori dalle palle! Così. Allora, qua direi che forse c'è un medicoso? No. Eh, scherzavo. Si può andare di qua? Si può andare di qua? Non credo... Potre... La telecamera... Dio! Dio! Delle città! E delle immensità... Eh? Ah, si! Si può andare di qua! Forse c'è un segreto? Un segreto? Andiamo a vedere cosa se c'è. Un segreto. Ah, no! Forse... Forse bisogna andare proprio di qua. Credo. Non mi ricordo... Non mi ricordo, ragazzi, sono passati cent'anni. Ah, ah! Non lo fa? Ok, vabbè. Abbiamo fatto il giro dei misci. Direi che possiamo pure entrare nel Colosseo, signor. Sta luce bella! Allora, signore. A parte che... Penso che... Fra... Bu... Qualche settimana... Metteranno una sorta di... PAAAAAACCHE! Gesù, bambino! Salta, Cristo! Non ho salvato! Non ho salvato! Dicevamo? Eh? Allora... Il coso veniva di qua? Direi... Se fossi... Gira! Gira! La madonna! Sì, sì, ma se non muori, Cristo... Eh? Oddio! Ecco, Medipack... Eh, prima andato, vai! Chissà quanti ce ne andranno a sto livello? Qua te lo dico io, te lo dico, mamma mia! Non ce la posso fare, non ce la posso fare... Non ce la posso fa... Aia! Vediamo di qua, quindi... Qua un altro leone... Un altro leone! No, aspetta... Non ho capito... Aspetta, lì c'è una luce, quindi... No, 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 non sto capendo... Non sto... Ah, aspetta... Forse vi devo aggrappare qua? No, eh, scherzavo... Forse c'è l'interruttore che non vedo? Grazie al... Al Cristo? Ma se giri sta... Ah, aspetta, lì... Lì c'è qualcosa... Aha! No. Ho capito. Ma che cacchio? No, aspetta, no, no... No, no, eh? Forse lì? Forse lì devo andare... Forse lì... Sì, però, allora ditelo, ragazzi... Cioè, mi fate andare... Veramente in dei posti angusti... Madonna... Madonna... Vai... Sì, ma salta, Cristo! Salta! Girati... E salta... Grazie, gentilissima, Lara... Come sempre, come al solito... Sempre sul pezzo... Vai! 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 Vai, vai! Vai! Quindi devo andare lì... No, no, aspetta... Mi faccia andare lì, per scusa... E no, devo... No, devo... Qua? Ah, forse qua? No, scherzavo... Non ho capito... Non ho capito... Aspetta, eh... Ma è che forse devo saltare... Tipo... Che ne so io... Ah, è buona... Ok, ma basta scacciare il tasto azione... E poi lei sale... Di conseguenza, eh... Sto guardando... Ah, e dillo... Ho mica visto qua, eh... E chi si ricorda? Vai... Oh... Qua dietro c'è qualcosa? Ovviamente no... Ok... Ah... Ora... Ora ho capito... Qua saltiamo... Di qua! Grazie! Urca! Madonna! Ahia! Testata, come al solito... Le testate e quantum brighter sono al giorno... Qua leoni, cose, robe... Stra... Che ho... Che ho parlato? Proviamo... Proviamo... Due! Salta! Dio, madonna! Eh, basta... Vai... Raccogli sta fava, madonna! Vai... Vai... Non ci arrivo... Non ci arrivo... Non ci arrivo... E che me faccio a derivarci lì? Scusa... Ah... Te possino... Te possino! Vai... Tirati su! Devo... No, cosa devo fare? Ah, di qua! Eccolo! Ok, perfetto... Ok, perfetto, perfetto... Ci siamo, direi che... Sta andando alla grande, eh! Senza intoppi... Senza... Senza grosse... Preoccupazioni... Più o meno, tipo... Ok... E... Vediamo un po'... Ti... Non si tira su sta zoccola... Oh... Si è tirata su... Grazie, gentilissima... È un segreto! Ce la posso fare, eh? Curarmi... C'era solo quello? Sì... A quanto pare, sì... Ok... E direi che possiamo mollare... Il tasto... Azione! Gesù! Bambino! Ok... Di qua... Ehm... Uuuuh! Ah no! Dobbiamo andare qui sotto, in effetti! Dobbiamo andare qui sotto! Ok, siamo... Qua possiamo... Aprire... La porta... Cancello! Che per ora non... Non serve... Quindi andiamo di qua... Tiriamo su queste... Perché non si sa mai... Guarda quello lì... Merda che scapp... NOOOOO! Porca, porca... Ma... Numero maestro! Ma che maestro! Che maestro! Mamma mia! Momenti di grande gaming! Momenti di grande gaming! Signori! Momenti di grande gaming! Io sono caduto di qua... Ehm... Aspetta eh! Diciamo che torniamo su... Perché... Eh? Ok? Bello qua! Bello qua! Ma che figo! Eh, mica... Anche il colore è proprio diverso! Ehm... Andiamo ad Amico Fritz? Vai, vai! Amico Fritz, vieni! Sistemo io! Basta tenere Mutl! Dove vai? Cosa fai? Scappi? Merda! Ma non muore mai sto qua? Ma non muore bene! Ah no! Cosa fai? Ah non... Non doveva... Doveva morire... Cioè... Eh? Andiamo su di qua? Ah no! Qua c'è una porta chiusa che... Porca! Sozza! No, questa... Dobbiamo aprirla poi dopo... In qualche ma... Gesù! Gesù! Ok... Andiamo giù di qua perché... Direi che... Poi pensi che andiamo di sotto... Perché là in alto? Un po' scomodo ad arrivarci eh! Pochino scomodo direi! Giusto un pochetto! Vedo un po' lei eh! Così eh! Così! Ehm... Ok... Andiamo di qua... Si vabbè... Ok... Un po' ma un qualcosa del genere era... Porca pu... Te possino! No no no! L'ho salvato! L'ho salvato! L'ho salvato! L'ho salvato! Devo salvare! Devo salvare! Devo salvare! Salva! Salva! Madonna! Non carica ma salva! Grazie! Grazie! Gentilissima! Oddio! L'uscita di... Uno! Ok... E ora anche un altro... Un'altra leva? Un'altra leva! Ok... Quella? Infatti... Perfetto! Direi che possiamo andare! Chi è? Cosa? Dov'è? Porco il tuo! Che maestro! Ma dove non trovi uno youtuber così Cristo? Ma dove? Ma non prendi... Li prendo ste merde Cristo! E muori! No! Ah! Gesù mio! Eh! 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 Non dirlo a me! Eh! Mamma mia ragazzi! Che pena nel... Eh! Allora... Bisogna andare di qua! Giusto! Perché si è aperto il cancello lì! Eh! A parte che l'ho visto! Gira! Salta! Salta! Ah! Grazie! Qua sotto invece? Scusa! Ah! Eh! Eh! Niente! Non... Non! Meglio di no! Meglio di no perché... Eh! Io queste le tiro fuori perché non si sa mai! Non c'è nulla! Se ti aggrappi magari! Ah! Qua c'è una specie di interruttore! No! Eh! Eh sì! Eh sì! Aspetta! Aspetta! Ok! Ci siamo! Ci siamo! Dio! Ti prevedesse il Cristo! Ok! Ah! Fantastico! Eeeh! Andiamo qua lì! Vai! Ah! Perfetto! Ah! Leva! Tutto bene! Sarà aperta la porta! Porca put... Eh! No! No! A tempo! Certo! Non ci credo che ha tempo! Non ci credo! Non ci credo! No! 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 Non è possibile! È a tempo! ma veramente esci 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 dai ma non ci credo c'è ma ragazzi c'è ma porco zio ma fammi respirare fammi respirare cristo dai vai 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 zio prete madonna mamma mia ragazzi la pesantezza la pesantezza proprio bellino eh al decimo di secondo cristo lo so io lo so io lo so io vorrei vedere qualcosa grazie grazie gentilissimo ah di qua ma a posto sta telecamera di merda oh ah siamo in cima ok perché qua ah perché deve andare lì tipo credo dico io eh scusa che chiudo un attimo qua mi sa di sì eh eh sì dobbiamo andare fin lì sì perfetto perfetto qua cosa c'è non si vede una fava minchia c'è ma guarda guarda come guarda la differenza la differenza ah devo andare ok devo devo fare il mega salto vai urrino madonna mamma mia ragazzi mamma mia ah vaffanculo il tifoso il tifoso attenzione io pago l'abbonamento io porca puttana che mi sei incagata addosso porca puttana la chiave facciamo la chiave no altro tifoso pianeta delle scimmie altra faccia del pianeta delle scimmie questo qua va brusa come bebe bebe ma cazzo sei maiale cazzo non ho capito vai no devo tirare devo spingere no devo tirare ovviamente ovviamente no così posso entrarvi lì molto bene molto bene molto bene certo sei incerto tieni aperto vai un medipack vai 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 può andare andi ah non è questo e qual è scusa fammi salvare che qua benito lo dico io eh ce l'hai presente no ce l'hai presente minchia no poi devo devo ritornare qui perché no che palle oh eh mi sono fatto male ovviamente ah di qua pardon scusate credo no non c'è una fava di niente no eh ora vediamo perché non mi ricordo aspetta aspetta un attimo vai che c'era un'altra porta di qua tipo dico io eh dico io perché ok dai dai ah lì ma lì da dove siamo arrivati mi sa credo ah no porco zio porca puttana che paura vaffanculo non mi freghi eh c'è porco che paura allora dicevamo senza senza eh eh andati qua grazie te possino te possino te possino te possino vai addio delle città e dell'immensità si ma gira sta telecamera grazie grazie ce la può fare ce la può c'è tutto per aprire lì vai là vai giù vai giù si è aperta ah ok si è aperta no si è aperta un'altra porta salviamo perché io conosco i miei polli eh così è credo aspetta scusa ok che cazzo vuoi ma di nuovo te ma che cazzo sparito non è nulla possino grazie andare giù di qua ci sono andato giù di qua non ho capito no c'era andato ah forse si è aperta qualcosa qua forse forse eh no guarda dove ma che cazzo non sto capendo non sto capendo ah no ok ce la posso fare ce la posso fare ah forse ah forse eh si è lì che si è aperto lì 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 qua non non crolla niente uh vai platforming e via seta grappi grazie grazie ok 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 bisogna andare di là a tirare la leva perfetto ci siamo e ora vediamo dove 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 si va ah lassù sui monti con la net dove cede sempre blu la con Daniel con Lucien vieni vieni anche tu eh può tornar giù eh tipo così ma a tempo no dai no 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 che cazzo dici ma a tempo ma che cazzo dici certo 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 ok ok vieni vieni anche tu là sono ticone net dove il cielo è sempre oblungo là con Daniel con Lucien vieni capito ho capito se era sentito il rumore che si chiudeva ma allora bisogna andare adesso dall'altra parte di di qua giusto perfetto perché c'era la cosa in alto ok ci siamo oh asci che che siamo e se noi che siamo che siamo eh vai ciapa qualcuno si è aperto la porta non è che c'è l'alligatore no forse no vai devo spingere vai spuncia spuncia vai ok perfetto eh ah eh niente devo tirare eh sì c'è una forza brutta questa Lara brava Lara brava aha no dici aha vai vai non cincischi però salviamo perché veramente eh te lo dico io se tanto mi da tanto ok vai salva salva con nome una salva grazie gentilissimo come sempre ok eh di qua e poi di sotto mi pare mi pare andare di qua che c'è la chiave no dobbiamo tornare indietro grazie ora forse mi ricordo forse grazie sì ma sì ma oh perché bisogna andare di là ah eeeh di lì tipo sì aspetta 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 di qua no di qua non serve no grazie aspetta ma forse mi ricordo ah sì perché devo fare il giro dei misci si sminchio che due palle ragazzi che due palle ok vai puoi andare lì eeeh qua grazie andiamo sull'angolo ok vai eeeh pavolino si fa giusto no no mi sbaglio sempre Gesù Gesù VVV no mi sa che eh sì 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 qua 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 bolino che jolly la infila così la chiave senza me eeeh non c'è nulla qua alligatori no certo ovviamente vai sali su grazie grazie gentilissima ci sono le grate ma non so se si aprono spero di no perché i ragazzi ce l'ho un po' per aspettiamo così perfetto ci salutiamo qua alla prossima Gesù